Variante Delta in Molise, l'analisi dell'infettivologa, primo focolaio nella nostra regione legato a un nucleo familiare del capoluogo, intanto Covid presente in 19 comuni, attenzionato il cluster nella casa di riposo a Montenero di Bisaccia. Tentati atti sessuali con minore in carcere, un ex bidello è stato portato nel penitenziario di Foggia, l'uomo condannato a scontare la pena residua di 5 anni e 9 mesi, i fatti contestati risalgono al 2015. Campobasso, le proposte del PD sul lavoro è verde pubblico, i consiglieri Trivisonno, Chierchi e Battista hanno annunciato le iniziative da portare in consiglio. Domani, a Isernia, assemblea riunita sul regolamento e rifiuti, ma tiene banco il toto sindaco. A Isernia, la tradizionale fiera delle cipolle, oggi e domani per la festa di Santi Pietro e Paolo, si rinnova il mercato dedicato esclusivamente all'ortaggio tipico, inserata il convegno a Palazzo San Francesco. Play-off di Serie D Alpineto, la finale, la rete di Minnozzi mette K.O. il notaresco per le molisane, Marinucci Palermo saluta il vasto Girardi e approda alla Correggese. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale Primo Focolaio in Molise della Temuta, variante Delta, quella indiana, l'ultima mutazione in ordine temporale del Covid-19. Per capire di cosa si tratta e come affrontarla, ci colleghiamo con il reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove già vedo in bassa frequenza Pasquale Di Bello con la dottoressa Alessandra Prozzo, medico infettivolo. Sì, Tonino, grazie per la linea. Allora, purtroppo la variante Delta ha fatto la sua comparsa anche in Molise. Io mi trovo all'interno del reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso insieme al medico infettivologo Alessandra Prozzo. Sono qui per capire che cosa succede dalla viva voce quindi di un medico, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa variante. Innanzitutto, dottoressa Prozzo, perché è così pericolosa, perché è così contagiosa? Buongiorno, grazie a lei. Allora, dobbiamo innanzitutto fare una premessa. I virus, in particolar modo i virus RNA come il SARS-CoV-2, sono virus che in corso di replicazione hanno un alto tasso di errore replicativo. E questa presenza dell'errore replicativo determina la comparsa di mutazioni puntiformi, inizialmente solo puntiformi, e poi successivamente variazioni e mutazioni maggiori che conferiscono un aspetto differente, delle capacità differenti al virus, sia in termini di contagiosità, sia a volte anche in termini di manifestazioni, quindi di gravità o meno di malattia. Questa variante è altamente infettiva, viene considerata un superdiffusore, quindi ha una capacità infettiva che è il 60% maggiore rispetto alla variante che in questo momento è predominante sul territorio nazionale, che è la cosiddetta variante inglese, che già a sua volta ha una infettività, contagiosità, che è superiore al 40% rispetto a quello che è il wild type, cioè il virus originario che è stato quello isolato per la prima volta in Cina. Quindi la preoccupazione destata dalla variante è legata proprio a questa sua capacità infettante che è nettamente superiore rispetto alle varianti che abbiamo visto finora. Un tema fondamentale è quello delle vaccinazioni, perché da quello che la comunità scientifica ha fatto sapere con la seconda dose di vaccino non ci sono preoccupazioni particolari, invece con la prima dose forse è necessario maggiore cautela. Allora, la vaccinazione è efficace sulla variante Delta esattamente come lo è sulle altre varianti, però nel caso della Delta la protezione è pressoché equivalente rispetto alle altre varianti quando si fa il ciclo completo di vaccinazione, quindi laddove il vaccino prevede la doppia somministrazione è uguale, pressoché equivalente, diciamo, la cosiddetta copertura vaccinale rispetto alle altre varianti. Con la singola dose, invece, la copertura è inferiore rispetto alle altre varianti. Ecco, quindi le raccomandazioni che vanno fatte sono le medesime, le stesse precauzioni che sono state adottate finora? Le raccomandazioni sono le stesse. Distanziamento, utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi, lavaggio delle mani. Bene Tonino, allora qui dal reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso e tutto, la dottoressa Prozzo ci ha detto alcune cose importanti sull'aggressività della variante Delta, sull'importanza della doppia dose per quel che riguarda le vaccinazioni e soprattutto rispettare le regole e le prescrizioni che finora sono state adottate. Se non hai domande da studio, io ti restituisco la linea. Grazie Pasquale, nessuna domanda chiarissima alla dottoressa Prozzo, in merito appunto alle armi per difenderci anche da questa variante Delta. E veniamo adesso ai dati Covid in Molise con l'ultimo bollettino diffuso dall'ASREM. Non si sono registrati nuovi contagi su 116 tamponi refertati, 11 sono i nuovi guariti, nessun ricovero, nessuna dimissione dall'ospedale e nessun decesso registrato agli attualmente positivi. In regione sono 88, 8 sono le persone con Covid ricoverate tutte in malattie infettive. Nella settimana che si è conclusa si sono registrati 35 nuovi positivi, la precedente erano 46, 34 guariti, la scorsa erano 42. C'è stato il cluster nella casa di riposo a Montenero di Bisaccia, 21.595 i vaccini effettuati, quasi 7.000 in più rispetto alla precedente settimana. Negli ultimi sette giorni si è passati da 6 a 8 ricoveri e sale di 4 invece il numero degli attualmente positivi, come si diceva adesso, a 88. E oggi anche a Campobasso al via le vaccinazioni alla fascia di età 14-15 anni. E come riporta poi la tabella che vediamo diffusa in tarda mattinata dall'ASREM, sono 19 i comuni molisani dove è presente almeno un caso di coronavirus in Molise. Appunto il numero più alto riguarda Campobasso con 23 casi, 11 a Montenero di Bisaccia, 10 a Isernia e 9 a Guardia Alfiera negli altri centri, numeri inferiori. E intanto al termine della settimana che si è appena conclusa, appunto quella dal 21 al 27 giugno, a Campobasso, il numero totale dei positivi al Covid è sceso di qualche unità rispetto alla settimana precedente. Infatti ad oggi sono 23 i positivi, mentre la scorsa settimana erano 31. Negli ultimi sette giorni ci sono state altre 12 persone guarite. I nuovi casi di positività accertati sono stati 4. La cosa che tutti possiamo continuare a fare per fermare la possibilità di contagio, innanzitutto ha detto il sindaco Gravina, assumere atteggiamenti prudenziali in tutte le situazioni della vita sociale e lavorativa. Dunque il rispetto delle regole è fondamentale. E da oggi niente mascherina all'aperto, con l'Italia, con l'intera Italia in zona bianca, dunque decade l'obbligo di indossare il dispositivo nei luoghi aperti. Per molti una liberazione, per altri occorre ancora molta prudenza e vediamo cosa ne pensano i cittadini a Isernia, nel servizio di Barbara Fino. Da oggi niente mascherina all'aperto in zona bianca, secondo l'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza. Ma sarà comunque obbligatorio portarla con sé e utilizzarla in determinate circostanze. Restano infatti in vigore il divieto di assembramento e l'obbligo di mantenere la distanza sociale. Così come sarà necessario indossare il dispositivo di protezione individuale al chiuso, negli esercizi, sui trasporti pubblici. Si può togliere dunque quando si passeggia in strada, da soli o con i partner o conviventi, ma si deve indossare quando si entra in un ambiente chiuso, come un negozio. Una liberazione per molti, soprattutto con le alte temperature registrate in questi ultimi giorni. Primo giorno senza mascherina dopo tanto tempo, cosa si prova? È una sensazione nuova, dopo due anni diciamo che con la mascherina oggi veramente si respira, anche perché con questo caldo penso che nessuno più sopportava la mascherina. È un sollievo, insomma, si può respirare. Posso mettermi gli occhiali da sole perché prima non si poteva respirare. Un'altra cosa. È felice. Sì, sì. Una liberazione, però vedo che parecchi la portano ancora. Credo che le persone siano molto mature rispetto a questo problema. Sono ancora un po' titubanti, forse. I titubanti secondo me fanno bene, se possono, se non gli dà fastidio. È un risultato incoraggiante per la popolazione, ma servono ancora a cautela e prudenza, anche secondo il sindaco di Sernia, Giacomo D'Apollonio. Non è un liberi tutti, è un primo passo. Speriamo che a questo passo ne possano seguire altri, ma non dobbiamo tornare indietro. Allora, per non tornare indietro la prudenza che sia deve essere assolutamente necessaria. È un obbligo per tutti quanti noi, quindi senso di responsabilità, accortezza e muoversi sempre con attenzione. La battaglia contro il virus non è ancora vinta. Quello che preoccupa la cittadinanza sono i dati che arrivano dall'Inghilterra sui nuovi contagi. Anche in Italia, dalla Lombardia alla Sardegna, dove casi totali decrescono, aumentano percentualmente i focolai indotti dalla variante Delta. E questo fa mantenere alta la guardia di molte persone che decidono di non abbandonare la mascherina. Siamo contenti che si comincia ad allentare un po' la situazione, anche se poi le notizie che ci arrivano non sono rassicuranti. Quando riguarda la variante Delta che si è sbarcata nel Molise, potevamo e dovevamo fare molto più attenzione. Probabilmente alla prima lezione non ci è bastato. Quindi lei in maniera precauzionale la porta a metà e a metà, così? Alla via al 50%. Nonno con i suoi nipotini? Esatto. Tutti e tre con le mascherine, ma oggi si poteva andare anche senza. Sì, si può andare senza, ma è meglio mettere. La precauzione non è mai troppa. Come mai ha scelto di tenerla? Non mi fido, purtroppo. Carenza di personale medico necessario a garantire il servizio alla camera iperbarica di Larino e l'ASREM corre ai ripari. A seguito della segnalazione del direttore del distretto di Termoli Larino, il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano, ha firmato una delibera autorizzando la pubblicazione di uno specifico avviso e finalizzato ad acquisire la disponibilità di medici di anestesia e rianimazione per l'espletamento di attività aggiuntiva fino all'esaurimento del monte orario 320 ore, allo scopo di assicurare le attività professionali. È stato portato in carcere a Foggia per scontare la pena residua di 5 anni e 9 mesi di reclusione l'ex collaboratore scolastico dell'istituto di Petacciato condannato per tentati atti sessuali con minore violenza sessuale aggravata e violenza privata. I fatti risalgono al 2015. Sentiamo Manuela Iorio. Dovrà scontare la pena residua di 5 anni, 9 mesi e 28 giorni di reclusione un uomo di 59 anni di Termoli che è stato portato in carcere a Foggia condannato per tentati atti sessuali con minore, violenza sessuale aggravata e violenza privata ai danni di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 11 anni. Il provvedimento di carcerazione è stato eseguito dai carabinieri di Termoli e le indagini erano state portate avanti dalla locale stazione dell'arma di Petacciato tra il 14 gennaio e il 27 ottobre del 2015. Indagini che avevano permesso di individuare l'uomo che svolgeva le mansioni di collaboratore scolastico come responsabile di atti di violenza all'interno della scuola del paese nei confronti di un alunno. L'uomo era stato arrestato e aveva trascorso quasi 18 mesi ai domiciliari durante i quali aveva perso il lavoro. Per lui ora è arrivata la condanna definitiva da cui è scaturito il provvedimento eseguito dai carabinieri. In primo grado era stato condannato a sette anni, confermati in appello. La vicenda all'epoca fece molto scalpore e fu trattata con le dovute cautele per il convolgimento di minori. L'arma, nell'ambito delle direttive del Comando Provinciale di Campobasso, continua a porre sempre la massima attenzione verso i reati di maggiore allarme sociale e in particolari di quelle in danno alle fasce deboli che purtroppo in diverse occasioni non vengono denunciati per via delle condizioni di percepita impotenza amplificata nel caso di specie come riportato dagli inquirenti dal rapporto di fiducia che si era instaurato per via del ruolo professionale tra l'arrestato e la vittima di giovanissima età. Una vicenda che si trascina senza soluzione da 18 mesi e che vede ora l'Associazione Genitori Autismo Molise ricorrere di nuovo alle vie legali con una diffida e messa in mora all'Asrem. A darne notizia il presidente dell'ONLUS, Vincenzo Germano, riguarda i bambini molisani affetti da disturbi dello spettro autistico. In una nota Germano ricorda alcuni passaggi precedenti, in particolare la sentenza del Tribunale di Campobasso del marzo del 2020 che nel disporre la necessità di assistenza terapeutica per i bambini affetti da autismo rientrante nei livelli minimi di assistenza, ha condannato l'Asrem a erogare in via diretta le prestazioni e a rimborsare i costi sostenuti dai genitori per garantire ai minori l'assistenza terapeutica denominata ABA presso altre strutture. Da allora però nulla di quanto stabilito nella sentenza è stato eseguito, ha detto Vincenzo Germano. Torna a riunirsi domani il Consiglio Comunale di Isernia con all'ordine del giorno nuovo regolamento e nuove tariffe per la tassa sulla raccolta dei rifiuti, ma tutta l'attenzione dell'opinione pubblica è focalizzata sulle grandi manovre in corso per le prossime elezioni di ottobre. Ci dice tutto in questo servizio Enzo Di Gaetano. Regolamente nuove tariffe per la Tari. Torna a riunirsi in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Isernia. La convocazione è fissata per domani, 29 giugno, alle ore 18.30. La seduta si terrà nella sala dell'Auditorium Unità d'Italia per garantire il rispetto delle misure anti-Covid. Quattro gli argomenti in agenda, il primo punto all'ordine del giorno e il regolamento per l'applicazione della Tari. Subito dopo sarà l'esame del Consiglio e il piano economico-finanziario del servizio di gestione rifiuti e l'approvazione delle nuove tariffe Tari per l'anno in corso. Intanto cresce l'attenzione nelle segreterie politiche per la scelta degli schieramenti, ma soprattutto dei candidati sindaci. Da sottolineare due prese di posizione, entrambe a favore del centro-destra ufficiale. La prima è di Teresio Di Pietro, segretario regionale dell'Udc, che precisa che il suo partito è organico al centro-destra nazionale locale e non lascia aperto nessun margine di manovra per un'alleanza di centro a cui comunque non aderirà in quanto l'Udc sta e resterà con il centro-destra. La seconda presa di posizione è quella di Marco Di Salvo, coordinatore regionale del Popolo della Famiglia, che risponde all'appello della Lega, auspicando una unione di intenti relativi alla famiglia, la quale costituisce un elemento essenziale della nostra società. Investire su di essa è condizione necessaria per far rifiorire l'economia locale, anche attraverso il mercato interno, determinando in tal modo ricadute positive in termini di occupazione. La soluzione programmatica che indica il popolo della famiglia è quella di tornare a investire sul valore famiglia, ma anche su giovani e lavoro, partendo dal ruolo decisivo della donna madre. Di Salvo per questo propone l'istituzione del reddito di maternità, l'aumento degli aiuti familiari, la riforma fiscale detta del cosiente familiare e l'incremento dei fondi per i disabili, oramai pressoché totalmente a carico della famiglia. Spostiamoci adesso al Comune di Campobasso perché i consiglieri del Partito Democratico hanno convocato questa mattina una conferenza stampa per annunciare le iniziative che metteranno in campo in vista del Consiglio Comunale in programma per la giornata di domani. Nel frattempo il giudizio sull'attività dell'amministrazione gravina è assolutamente negativo. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Partito Democratico a tutto campo, a Campobasso, per sollecitare l'azione dell'amministrazione gravina giudicata inadeguata per il capoluogo di Regione. Un bilancio deludente tracciato da Giosei Trivisono nel corso della conferenza stampa organizzata insieme agli altri colleghi di partito. Purtroppo a questa amministrazione ad oggi manca un po' di coraggio. Al netto dei problemi del Covid abbiamo continuato a denunciare alcune mancanze, ad esempio la collina di San Giovannello con un'interrogazione e su questo noi proveremo a stimolare un'efficienza maggiore, un'efficacia maggiore e soprattutto anche nella ricerca dei fondi. Noi sappiamo cosa abbiamo lasciato. Adesso si stanno spendendo e invece siamo preoccupati perché grandi programmazioni al di là del trenino al centro storico con i fondi del CIS che è sparito dall'orizzonte non si vede nulla e quindi per il futuro della città siamo un po' preoccupati. Per il 12 luglio su richiesta del PD è stata convocata una seduta monotematica del Consiglio Comunale. Il 12 luglio in Consiglio Comunale discuteremo di prospettive di futuro con la programmazione dei fondi FERS e del Piano Nazionale di ricostruzione. Antonio Battista il tema del lavoro resta una delle priorità? Si stanno verificando delle situazioni e delle condizioni che ci preoccupano fortemente che porteremo all'attenzione del Consiglio Comunale domani perché alcuni servizi che trovano un altro gestore non prevedono la cosiddetta clausola sociale ovvero il mantenimento delle attuali unità occupate o addirittura un potenziamento dell'attuale organico. Viviamo la contraddizione di grandi parate grandi intenti rispetto al verde pubblico soprattutto da parte di qualcuno degli amministratori in carica e poi per noi che giriamo la città per noi che viviamo la città sicuramente la vivono anche gli amministratori anche come dire la vivrà anche la maggioranza in carica e poi insomma chi va in giro in città al di là del difficilissimo sfalcio competenze privato pubblico l'abbandono delle contrade che ognuno dei campobassani che abita in contrada ci ricorda basta andare in quello che ai tempi dell'amministrazione Battista è stato uno dei gioielli della città vale a dire la collina San Giovannello il parco di San Giovannello lo stato di degrado i tombini diverti e quindi il rischio che i bambini che vanno al parco ci possano ci possano andare a finire con i piedi dentro giochi buttati per terra panchine a cui manca la seduta diciamo parliamo semplicemente di sporcizia senza entrare nello specifico che cosa dobbiamo fare a noi tocca quello che facciamo portare le questioni in commissioni e in consiglio lo abbiamo fatto per l'ennesima volta ora con una interrogazione noi ci auguriamo davvero che questa amministrazione metta un po' da parte la comunicazione degli annunci e veramente si rimbocchi le maniche ma non davanti alle telecamere si rimbocchi le maniche ogni giorno nel momento in cui è chiamato è chiamata ad amministrare adesso consentiteci di esprimere il più profondo cordoglio e le condoglianze alla collega giornalista Carmen Sepede per la prematura scomparsa della sorella Gianna Carmen e al marito il nostro collega di Telemolise Giovanni Di Tota aggiungano le condoglianze dell'editore Quintino Pallante del direttore Emanuela Petescia e di tutti noi di Telemolise i funerali di Gianna Sepede si svolgeranno a Pescara dove viveva e lavorava domani mattina alle 11 si è parlato di etica e di sviluppo sostenibile nell'incontro organizzato a San Martino in Pensilis anche il Molise avrà presto la mappa dei siti su cui localizzare impianti di energia rinnovabile sentiamo ancora Manuela Iorio sviluppo sostenibile rapporto tra uomo e pianeta nel terzo millennio etica politica ed economia per la cura della casa comune se ne è discusso a San Martino in Pensilis durante un incontro organizzato dall'amministrazione comunale in piazza D'Adderio e a cui ha partecipato anche il governatore Donato Toma che ha fatto il punto sulle azioni messe in campo dalla regione molise in materia di sviluppo sostenibile sulle energie rinnovabili Toma ha poi annunciato l'avvio della mappatura dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti mappatura che da tempo viene chiesta e su cui il Molise era ancora carente ormai si parla moltissimo di sviluppo sostenibile noi siamo in linea con la normativa europea e abbiamo recepito un programma un progetto tra la regione molise e il ministero dell'ambiente quello che una volta si chiamava ministero dell'ambiente stiamo portando avanti un programma trasversale perché lo sviluppo sostenibile attraversa ogni servizio dell'ente regione molise e tutti i momenti della vita dei cittadini noi non possiamo ricevere fondi sull'ambiente se non abbiamo redatto il programma dello sviluppo sostenibile per cui entro il 31 dicembre di quest'anno dobbiamo portare a termine questo programma che già è iniziato in maniera tale che possiamo rispettare questa precondizione per i fondi europei all'incontro ha partecipato anche Monsignor Leo Boccardi nunzio apostolico in Giappone Giorgio Arcolesse vicepresidente legambiente molise Renato Bogoni consulente aziendale il presidente della fondazione San Leo Giuseppe Carriero e il sindaco di San Martino Gianni Di Matteo i nostri territori sono territori che dovranno tornare ad essere centrali per quanto riguarda la cura dell'ambiente anche il risanamento di quello che è stato diciamo è stato diciamo il modo di vivere negli ultimi decenni che naturalmente sono stati sicuramente dei comportamenti delle finalità erano orientati ad altro è un momento di grandi cambiamenti è il tema dell'ambiente della sostenibilità è un tema che è tornato con la pandemia ancora più diciamo in auge anche perché ci saranno delle risorse e quindi queste risorse andranno in un certo senso rientrate verso scelte importanti scelte che saranno guidate da un'etica nuova che è quella della sostenibilità e quella della compatibilità ambientale le previsioni meteorologiche parlano di un'estate torrida anche in Molise il segretario molisano del PD e consigliere regionale Vittorino Facciolla ha chiesto al governatore Toma con un'interpellanza di vietare il lavoro nei campi dalle 12 alle 16 nelle giornate in cui la mappa dell'INAIL e del CNR indicherà rischio alto ovvero quando le previsioni del tempo indicheranno ondate di caldo tali da rendere rischiose le condizioni di lavoro la salute e la dignità dei lavoratori a concluso Facciolla devono venire prima del profitto sempre percorsi di medicina prorogata precorsi scusate di medicina prorogata la scadenza ancora posti disponibili il 3 luglio il nuovo termine per presentare la domanda al corso di preparazione al test di ammissione e cogliere l'opportunità di una efficace adeguata e omogenea formazione per prepararsi ai test di accesso per i corsi universitari a numero programmato l'unimoll infatti anche quest'anno ha riproposto il ciclo di preparazione al concorso per l'accesso al primo anno di medicina e chirurgia utile anche per i test di ulteriori corsi di laurea nell'ambito delle professioni sanitarie della prevenzione e delle bioscienze dopo tale data il costo dell'iscrizione nel caso di posti ancora disponibili sarà di 400 euro anziché degli attuali anziché gli attuali 250 il corso si svolgerà tra il 12 e il 30 luglio con 6 ore di lezioni al giorno tenute da un gruppo di esperti docenti Unimoll Oggi a Isernia è in corso la tradizionale fiera delle cipolle ma per il secondo anno consecutivo in una versione dedicata esclusivamente all'ortaggio Isernino con la vendita fino a domani convegno questa sera alle 18 e 30 a Palazzo San Francesco sentiamo Barbara Fino Si rinnova la tradizione anche quest'anno a Isernia per la fiera del 28 e 29 giugno in onore dei Santi Pietro e Paolo seppur con le dovute restrizioni per il contrasto alla pandemia per questa edizione della fiera delle cipolle tra le fiere più antiche del Molise il Comune ha deciso di mantenere l'esposizione e la vendita della rinomata cipolla bianca ad opera dei coltivatori locali a tal fine sono stati organizzati due distinti mercatini uno in piazza Michelangelo attivo fino alla serata di oggi l'altro in piazza 10 settembre attivo domani 29 giugno dalle 8 alle 14 Voi dove le coltivate? Le coltivo alle piene di Isernia quindi sono proprio del territorio del territorio sì quanto tempo ci mette per seminarle raccoglierle? dipende come va il periodo quando ha cominciato? si comincia a fare la semina della pianta a giorno a cosa dal mese a metà di agosto e poi come arrivano le piantine all'autunno si trapiantano voi da quanti anni partecipate alla fiera delle cipolle? diversi anni sono 40 anni da poco lui prima di me io sono 50 anni lei da quanti anni raccoglie queste cipolle? sono parecchi anni da 96 anni sono parecchi anni come è stata l'annata quest'anno della cipolla bianca? non c'è male grazie a Dio sono pure presenti all'annata presenti all'appuntamento con la fiera delle cipolle anche la cooperativa Lai con tutti i suoi ragazzi impegnati nei giorni scorsi con la raccolta del bulbo bianco e oggi al completo per invitare tutti ad assaggiare la cipolla bianca di Sernia venite a comprare le cipolle di Sernia che sono buone sono fresche questa cipolla è utilizzabile anche per i fagioli per i papadoni stare insieme agli enti che ci hanno aiutato parlo dell'università della facoltà di agraria col professor De Cristofaro che ci ha condotto in questi anni verso un orto botanico produttivo che ha permesso a Luciano poi lui è il tecnico ne parlerà più approfonditamente di realizzare un orto dove veramente la nostra cipolla ha un senso e ha una logica anche perché è una forma integrativa inclusiva per questi lavoratori ragazzi diversamente abili la passione l'amore che i ragazzi mettono è qualcosa di indescrivibile loro curano qualsiasi cosa che toccano con amore bellissima anche questa iniziativa è tutto termina qui il nostro telegiornale delle 14 dopo la sigla le previsioni meteo poi come sempre la linea ai colleghi dello sport noi ci rivediamo intorno alle 15 per il TG Flash buon pomeriggio per la sigla per la sigla